Poco risponde alla nostra esperienza e il desiderio di conoscere il comportamento di una persona. Nel Nuovo Testamento, la visione di Dio ci è stata tratta, ma nel libro delle immagini del libro invisibile, che può farci vedere il volto umano di Dio. Il Padre si manifesta in Gesù non solo nella Sua presenza, nel Suo contatto, ma nella Sua morte e nella Sua riconnessione. E nella morte e nella riconnessione di Gesù, quello che possiamo vedere Gesù. Gesù solo si fa vedere e facendosi vedere e fa vedere il Padre. Il nostro contatto con Gesù di fuoco è un contatto misterioso. Sappiamo che il contatto del tuo mondo non è lui, e il contatto del tuo cuore. Sono gli occhi del cuore che hanno riconosciuto nessun mistero.